Diminuisce l'indice delle donazioni, cioè il numero di donazioni per anno per donatore. Quindi vuol dire che da parte di ciascun donatore c'è una certa disaffezione alla donazione continua. In provincia di Teramo scendono i donatori e le donazioni di sangue. L'allarme è lanciato dalla Fidas Teramana che oggi conta circa 7.000 iscritti, di cui 4.000 attivi e serve un bacino di circa 100.000 abitanti. Il calo che si sta registrando in quest'ultimo periodo è dovuto a diversi fattori, primo tra tutti l'età media elevata della popolazione, poi anche la difficoltà di lasciare il posto di lavoro con un permesso per recarsi a donare il sangue. Ad aggiungersi a questo una scarsa sensibilizzazione al problema della donazione e il basso coinvolgimento dei giovani. Tutto questo mentre in Italia la richiesta di sangue aumenta, oggi si aggira intorno alle 8.500 unità giornaliere. Di qui nasce la collaborazione con la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università di Teramo, che ha messo a punto una nuova strategia di marketing della donazione. Abbiamo realizzato dei nuovi strumenti, nuovi supporti per cercare di dare un nuovo slancio ai metodi di comunicazione attualmente utilizzati, recentemente utilizzati dalla Fidas. Adesso questo piano di comunicazione, questo progetto, questa collaborazione è arrivata al termine. stiamo fornendo gli ultimi dati, gli ultimi strumenti, manca un periodo di formazione per le persone della Fidas che andranno poi dopo a curare questa comunicazione.